Partiamo dalle nostre care obbligazioni fuori dall'Ise. Non dobbiamo perdere troppo tempo perché di carne al fuoco effettivamente ce n'è veramente tanta questa volta, per cui iniziamo subito. Partiamo da quella che allo stato attuale delle cose è veramente una spolazione, o meglio si tratta di una proposta di legge inserita all'interno della legge di bilancio che deve essere, della bozza della legge di bilancio che deve essere comunque approvata per fine anno, per l'anno prossimo, all'interno della quale la nuova idea da parte del Ministro e di mando da parte del Governo è quella di far uscire i nuovi BTP, quindi stiamo parlando non dei BTP attualmente a regime, ma quelli che andranno ad uscire nel 2024, i BTP People, farli uscire dal calcolo dell'Ise. Ora, lo scopo, l'obiettivo da parte del Governo è abbastanza semplice e intuibile, ossia quello di andare a mettere, a invogliare sempre più italiani a utilizzare lo strumento dei BTP, far entrare gran parte del debito pubblico, comunque far entrare una parte maggiore del debito pubblico italiano in tasca agli italiani, un po' come tradizione giapponese che ha il proprio debito pubblico in mano ai concittadini e per far questo come incentivo, un incentivo che direi estremamente interessante per i piccoli risparmiatori, perché in questo modo stiamo parlando di la possibilità di far uscire dal calcolo delle tasse, adesso vado a semplificare l'immissione, l'acquisto di BTP. Quindi tanta tanta roba, adesso bisogna vedere se effettivamente questa bozza di leggi verrà approvata all'interno della legge di bilancio, però questo è quello che è successo allo stato attuale delle cose, insomma. Però mi sorge un dubbio a questo punto, perché io da bastian contrario quale sono, da persona che dubita di tutto e di tutti, ma non è che magari lo stato italiano è talmente con l'acqua alla gola, che dice ho bisogno talmente tanto di soldi, che pur di incassare altro debito, scusa, emettere altro debito, incassare altri soldi, le invento tutte? Beh, allora, questo potrebbe avvalorare la tua tesi, il fatto che ci sono diverse dichiarazioni anche da parte dei pubblici governanti, il fatto che ad esempio si stava valutando di rimborsare i BTP con l'emissione di altri BTP al posto di dare i guadagni, insomma ce ne sono, di carne sul fuoco ce n'è, e indubbiamente sarebbe nascondersi dietro una foglia di figo il fatto che l'obiettivo ultimo da parte del governo è quello di aumentare il proprio debito e di incentivare ancora di più gli italiani a prestare il capitale allo Stato. Certo è che d'altra parte non ci troviamo all'interno di un contesto come quello europeo, per cui il rapporto rischio-rendimento è estremamente da capolare, ci mancherebbe altro, però è corretta l'analisi che porti Pasquale. Anche perché quello che è il mio pensiero, come noi ben ci ricordiamo, è vero che non siamo una nazione del quarto mondo, però la valutazione dei nostri BTP, delle nostre obbligazioni, è al limite con quello che può essere un po', non dico il jank bond, però potrebbe andare via dall'investment grade. Andando via dall'investment grade, tutti quelli che sono i fondi, ETF, gli istituzionali che posseggono dei panieri in cui ci sono solo obbligazioni di investment grade, farebbero scaricare in massa tutto quello che è l'obbligazionale italiano. In realtà in quel caso succederebbero anche cose, si potrebbe ripetere, si rischierebbe di ripetere quello che è successo un po' in Inghilterra con la problematica dei fondi pensione, i quali hanno per loro natura, per forza di cose, hanno dei BTP all'interno dei vari portafogli e quello potrebbe essere un problema per quanto riguarda l'assolvibilità dei fondi pensione, ma quello è un altro discorso, non ha senso trattarlo in questo momento, ne riparleremo. Però è corretto, c'è questo rischio, allo stato attuale delle cose i rating continuano a rimanere a livello degli investment grade, per cui per quanto mi riguarda, dato che è uno spauracchio che un po' viene detto da diversi mesi, se non diversi anni, il fatto che lo spread continua ad aumentare con i bondi tedeschi, si rischia che la solvabilità dello Stato italiano vada a decalassarsi. Allo stato attuale delle cose, però ancora questa possibilità non è uscita, non è diventata ufficiale, per cui è sempre una possibilità della quale bisogna tener conto, però più di quello non è che possiamo fare le nostre congetture. Comunque come idea, al di là di fare la chiacchiera da bar se lo Stato è veramente quella che corrono oppure no, è secondo te un'idea interessante? dal punto di vista investitore. E quale, l'idea di mettere a questo del BTP? Sì, esatto, questo di avere un BTP che non deve essere diciamo calcolato ai fini ISE. Allora, indubbiamente è una, qualora dovesse essere, adesso dipende dai dettagli del BTP, però qualora dovesse essere sicuramente è un, non modificandosi, facciamo così, non modificandosi le varie caratteristiche, ma emergendo esclusivamente un pro per quanto riguarda l'investitore, il cittadino medio, per quanto riguarda se diamo per scontato, come sempre dipende da persona a persona, ma se diamo per scontato che a una persona ieri andava bene il BTP, indubbiamente questo dipende dalla scadenza, dipende da quanto sarà il flusso scedolare, dipende da quanto sarà il rendimento netto, dipende da tutta una serie di fattori, ma dando per scontato questo, lo reputo una cosa assolutamente positiva. Il grande conto è quello che hai detto tu, ossia valutare se questa manovra non è altro che un, diciamo, raschiare il fondo del barile, ok, mettiamola in questi termini, per il resto però è sicuramente comodo per l'investitore perché si ritrova di tratta dall'ISE, una parte importante potrebbe essere del patrimonio. Ok, e vedremo insomma se effettivamente questo andrà a divenire legge per cui converrà a comprare qualche BTP, magari anche un fissato delle azioni degli ETF azionali come me potrebbe dire, ma lo metto in un portafoglio, va? Beh, in quel caso sicuramente quando uscirà la notizia, se dovrà essere, se si dovrà dichiarare, se si rivelerà corretta, noi vi parleremo sicuramente e staremo qui a a commentarla con voi.